Sin al 3 gennaio il Munda, il nuovo Museo Nazionale d'Abruzzo sarà visitabile gratuitamente nei locali dell'ex mattatoio comunale a Borgo Rivera. Occasione unica per ammirare le oltre 150 opere, guardando come obiettivo al biglietto unico, un unico ticket per tutti i musei abruzzesi. Questo è l'obiettivo del Ministro Franceschini, si è sempre posto questo obiettivo, creare reti, creare agevolazioni alle visite in rete e quindi anche arte card. Del resto esiste già una rete museale abruzzese alla quale vanno aggiunti i musei civici e quelli ecclesiali. Già ne esistono tutti i presupposti, i musei dello Stato sono tutti collegati ma si dovrà creare la rete anche con i musei civici, con i musei ecclesiastici che sono diffusi in tutta la regione. L'Abruzzo è una regione ricchissima di patrimonio immobile e di patrimonio diffuso. L'obiettivo sarà certamente il restauro del Forte Spagnolo, vecchia sede del Museo Nazionale d'Abruzzo, ma le due realtà, assicura il segretario generale del MIBAC, potranno coesistere. Si è riusciti a realizzare qualcosa di completamente nuovo e cioè un nuovo museo. Questo non significa che il Ministero dei Beni Culturali non si impegnerà fino alla fine per restaurare il Castello Cinquecentesco, che è il grande museo di L'Aquila, ma questo nuovo museo del Monda arricchisce l'offerta culturale.